Paura a Lizzano per un uomo di 44 anni, rimasto imprigionato tra i fumi e le fiamme di un incendio, messo però in salvo da due carabinieri, ancora ad accertare le cause del rogo che si è sviluppato intorno a mezzogiorno in località Ostone di Marina di Lizzano, in un canneto, nella macchia mediterranea e nelle vicinanze di alcune abitazioni, interessando un'area di circa 3 ettari. I vigili del fuoco di Manduria sono piombati sul posto, riuscendo a contenere i danni alle case, ma nel frattempo un uomo fragagnanese di 44 anni alla guida di un'auto è arrivato nella zona e nel tentativo di allontanare il mezzo dalle fiamme è rimasto insabbiato a bordo strada, perdendo la lucidità a causa delle salazioni. Fortunatamente se ne sono accorti i due carabinieri della stazione di Lizzano, impegnati in servizio di perlustrazione. I due militari hanno così raggiunto l'automobilista in difficoltà, allontanandolo prima dall'auto e mettendolo così in salvo. Successivamente hanno recuperato anche il mezzo. Accusati poi dei malori da parte dei carabinieri, sono stati soccorsi dal 118 e trasportati al pronto soccorso dell'ospedale civile di Manduria, dove i medici hanno riscontrato un'intossicazione da inalazione. Per loro la promiosi è di quattro giorni.